Grazie alla neonata associazione Ippovia di San Sebastiano, a Mistretta, nella giornata di domenica 22 gennaio, si ripetuta l'omonima manifestazione presso l'aria attrezzata del laghetto Quattroocchi, in cui si trova la piccola edicola votiva con l'effigie di San Sebastiano, che da 2015 è divenuta meta di tanti pellegrini e fedeli. Lo scopo dell'associazione è quindi di portare avanti questa iniziativa che a poco a poco è diventata anche una tradizione legata alla fede nei confronti del santo padrono di Mistretta ed oltre che lo scopo religioso vuole anche avere quello di valorizzare e far conoscere un percorso naturalistico che conduce in uno dei luoghi più suggestivi del Parco dei Nebrodi. Così nella giornata di domenica, nonostante il freddo e la neve, un nutrito gruppo di pellegrini, fin dalle prime ore del mattino a piedi, ha attraversato il percorso che dalla chiesa di San Sebastiano conduce tra trazzere, boschi e paesaggi mozzafiato all'area attrezzata e quindi alla trabunetta di San Sebastiano. Giunti qui i pellegrini hanno pregato dinanzi l'edicola votiva insieme all'arciprete di Mistretta Monsignor Michele Giordano, che ha benedetto i presenti con le reliquie di San Sebastiano. Dopo la preghiera quindi c'è stato un momento conviviale e poi rientro a Mistretta per un arrivederci ad agosto e alla prossima Ippovia, in cui con condizioni meteo più clementi si potrà partecipare oltre che a piedi anche a cavallo e in bici. Sabato sera invece, preso il Cineteatro Falcone e Borsellino, vi è stato lo spettacolo di cabaret del duo Trick e Due, che tra schecce e battute ha fatto passare qualche oretta di allegria e spensieratezza alla nutrita platea presente presso il cinema a Mastratino. Lo spettacolo è stato organizzato sempre dall'associazione Ippovia di San Sebastiano.